Siamo in piazza dalla piccola quartiere 1 Centro Storico, numerose le segnalazioni dei cittadini per l'ubricatezza molesta che qui avviene tutte le sere, soprattutto per quanto riguarda soggetti della comunità peruviana che qui acquistano alcolici a gogò. E' proprio qui ad essere aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, il presidente del comitato fiorentino Salvatore Sibilla. Com'è andata? E' andata come sempre, praticamente, che qui il degrado è alla portata di tutti i giorni. Passando di qua alle 4 e mezzo di pomeriggio, avevo notato la macchina loro parcheggiata di questi peruviani sullo stallo per i veicoli elettrici, pur avendo la macchina a benzina, gli avevo chiesto gentilmente se potevano spostare il veicolo permettendo così altre vetture elettriche di poter caricare. Essendo pur pomeriggio, avevano già bevuto 13-14 bile e poi sono state conteggiate anche dalla polizia che è intervenuta, quindi erano già sotto fumi dell'alcol di pomeriggio. Mi hanno attaccato in gruppo tutte e tre, cercando di buttarmi a terra, ovviamente poi io mi sono difeso e sono riuscito a placare gli animi. Poi mi sono recato al commissariato di Riffredi a fare querela. Ma a una certa ora dovrebbe essere proibito dalla vendita degli alcolici? Sì, io appunto come comitato e come presidente chiedo che questo regolamento di chiudere a una certa ora la vendita di alcol sia spostato un po' su tutta Firenze. Qui il problema appunto è fondamentale, cioè eliminarlo è questo, il problema è l'alcol che porta degrado e violenza. E qui abbiamo questo minimarket da pochi mesi che è aperto e lui praticamente che cosa fa? Sta il giorno chiuso, la notte apre il bandone e smercia alcolici a basso, bassissimo costo, che sono venduti anche a minori. Noi abbiamo video riprese e non vedo neanche tanti scontrini fatti perché un bandone è aperto e buttano la busta fuori e i soldi dentro. Sicuramente c'è qualcosa da controllare e fare approfondimenti. E qui siamo sull'angolo tra Piazza Dalla Piccola e Via Claudio Monteverdi dove c'è anche uno studentato universitario. Beh questo è diventato un vero e proprio orinatoio perché del resto le birre in qualche modo vanno smaltite. Hai ricevuto comunque solidarietà da parte della responsabile della comunità peruviana qui a Firenze? Questo è molto bello e la ringrazio, la saluto, la responsabile di questo gruppo Facebook che sono 5.600 peruviani mi hanno tutti iscritto appunto dicendo che sono molto dispiaciuti del fatto di queste azioni che si distaccano completamente dal loro modo di vedere e pensare perché sono persone integrate. Insomma la solidarietà qui del quartiere di Saiacopino, basta pensare agli avvenimenti della piccola Cataleia Alvarez e quanto questa comunità sia stata vicina. Quindi non è assolutamente rivolta a una comunità in particolare ma a chi delinque di qualsiasi comunità lui appartenga.